Grazie a tutti. L'etica nel fare impresa, il Vescovo Giovanni Nerbini, ospite del terzo appuntamento di Confesercenti, incontra. Allo studio in Regione una proposta di salario minimo, l'annuncio di bugetti a prima di tutto. Nel furgone farmaci importati legalmente in mezzo al cibo, conservato male, denunciato un ambulante. Ben trovati a questa edizione della Sera del nostro TG. Questi come sentito i titoli di oggi. Prima però vogliamo dedicare la copertura del nostro TG allo switch off del nuovo digitale che si è completato in Toscana. E dunque TV Prato che è passata sul canale 75 si vede in tutta la nostra regione. Qui accanto a me ho il piacere di avere il direttore di TV Prato Gianni Rossi. Buonasera. Buonasera Maddalena e buonasera a tutti i telespettatori. Dunque direttore una svolta epocale per la nostra emittente che è diventata regionale. Eh sì, coroniamo un sogno Maddalena, un sogno che viene da lontano. La nostra emittente come molti sapranno aveva sempre coperto come si dice i territori di Prato, di Pistoia, di Firenze, in anni più recenti di Arezzo. Ma ora grazie allo switch off che si è proprio concluso ieri copriamo l'intero territorio toscano. Cioè TV Prato è visibile in tutta la regione. Questo significa che TV Prato non si occuperà più di Prato? Assolutamente no. Maddalena, questo lo abbiamo già detto, ci piace ribadirlo perché TV Prato ha la sua missione nel nome. E quindi è a questo territorio che guarda e vuole continuare a guardare tutti i giorni. Ma ovviamente la copertura regionale significa avere ascolti, visibilità maggiori, larghi, che tutti possono raggiungere il nostro segnale. Dunque grazie alla copertura regionale TV Prato raggiungerà anche la costa. E quindi la Versilia dove si trovano tanti pratesi e dove appunto stasera si trova anche Arianna Di Rubba a cui cediamo la linea. Buonasera Arianna. Buonasera e grazie per la linea con lo switch off al nuovo digitale terrestre e TV Prato è stata interessata da due importanti novità. Il cambio di canale dal 74 al 75 e soprattutto TV Prato è diventata regionale quindi visibile adesso in tutto il territorio regionale. E noi ci troviamo proprio per verificare appunto come sta andando la diffusione del segnale. Siamo in Versilia in una zona dove in tanti da tempo ci chiedevano appunto di poter vedere TV Prato. Sono tante le persone che d'estate vengono qui in Versilia per passare le ferie e adesso finalmente potranno vedere TV Prato anche in vacanza. Noi in particolare questa sera ci troviamo al Lido di Camaiore, siamo al Bagno Venezia e qui con me in compagnia questa sera abbiamo il piacere di avere Marco D'Addio che è il presidente dell'Associazione Balneari del Lido di Camaiore. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie a tutti. Allora con lo switch off al nuovo digitale terrestre appunto TV Prato è diventata regionale, è cambiato canale. Intanto come è andata anche lo switch off? Lei appunto essendo il presidente dell'Associazione Balneari qui del Lido di Camaiore, quindi presidente di 98, segue 98 stabilimenti. Come è andata anche lo switch off e quindi la diffusione del segnale? Sa se ci sono stati problemi o è tutto a posto? No, no, è un'operazione semplicissima, un'operazione fatta tra l'altro e ben comunicata su tutti i mezzi stampa quindi onestamente non ci sono stati nessun tipo di problema ma anzi dobbiamo dire che comunque il segnale si riceve bene e comunque si vedono bene tutte le notizie che arrivano anche dal regionale quindi veramente complimenti, l'operazione è stata fatta nella maniera migliore. Ecco come potete vedere anche dal televisore alle mie spalle appunto si vede TV Prato, siamo in diretta sul canale 75 quindi qui da Lido di Camaiore e sono tanti anche i pratesi che vengono qui in vacanza. Lido di Camaiore comunque è una bella colonia pratese, no? Pratese, Fiorentina, quindi è proprio bello poter far vedere comunque le notizie di casa anche ai nostri ospiti che comunque hanno, sono da sempre per noi comunque un bacino, una risorsa importante turistica il famoso turismo di prossimità che noi cerchiamo sempre e che comunque fa parte anche delle seconde case che i pratesi comunque hanno nel nostro territorio. Quindi finalmente ora potranno anche vedere anche qui appunto TV Prato ma appunto non solo quindi tutte le varie emittenti per capire anche un pochino come sta andando e come sta partendo anche la stagione balneare noi ci risentiamo tra poco sempre qui da Lido di Camaiore quindi a più tardi in diretta qui dal Bagno Venezia insieme a Marco D'Addio. Sì grazie Arianna, direttore torno da te. Ecco con lo sbarco di TV Prato su tutta la costa di in particolare in Versilia ci si avvicina al turismo di prossimità con la nostra emittente. Sì lo abbiamo sentito, è bello vedere queste immagini, la nostra televisione che si può raggiungere in tutta la costa era, lo dicevamo prima, davvero un desiderio di tantissimi pratesi e devo dire che in questi giorni da quando ho iniziato prima a diffondersi la notizia e poi davvero si è acceso il nostro canale 75 anche in Versilia tante persone ci hanno scritto per dirci la loro soddisfazione. Finalmente anche quando siamo al mare riusciamo a vedervi e questo davvero per noi è un motivo di grande contentezza. Dunque direttore un'ultima domanda. Per TV Prato il passaggio regionale rappresenta come dicevamo una svolta storica e lo ha anche per il nostro territorio che proprio grazie alla nostra emittente potrà fare un salto di qualità nella promozione della propria immagine. Questo è molto vero, noi siamo convinti che appunto la visibilità di TV Prato possa rappresentare un'opportunità significativa anche per la nostra città. Lo sappiamo purtroppo sotto rappresentata non soltanto nel contesto nazionale ma anche a livello regionale. Una città che non è conosciuta è apprezzata per come dovrebbe essere e è significativo che diverse persone anche incrociandoci per strada e riconoscendoci abbiano sottolineato questo. Finalmente la nostra città potrà essere meglio apprezzata anche fuori, lo hanno detto i sindaci del territorio, è importante questo, ma lo hanno detto tante persone comuni, tanti telespettatori. E in fondo questo è il compito di TV Prato, essere a servizio di questa comunità come televisione che fa comunità appunto e che racconta questo territorio, questa popolazione da sempre e ora lo può raccontare anche ad un pubblico davvero più largo. Prato è la seconda città della Toscana e ora potrà essere meglio conosciuta grazie anche a TV Prato in tutta la regione. Grazie direttore per essere stato qui con noi. Proseguiamo allora e parliamo di Superbonus che è diventato un boomerang per tante imprese edili che sono alle prese con problemi di liquidità e crediti fiscali anticipati attraverso lo sconto in fattura non sono state infatti recuperate a causa del blocco del sistema bancario e finanziario intervenuto dopo le numerose modifiche normative varate dal Governo. CNA dunque lancia l'allarme. Tra Prato e Pistoia 800 imprese del settore sono a rischio chiusura. Vediamo. Sulla cessione dei crediti edilizi rischiano di infrangersi tutte le speranze di rilancio del comparto e ben 800 aziende tra Prato e Pistoia rischiano la chiusura. L'allarme è lanciato da CNA. A creare problemi è la crisi di liquidità dovuta alla molle di crediti fiscali anticipati dalle aziende edili con lo sconto in fattura ai loro clienti e congelati dalle banche dopo le molteplici modifiche normative introdotte dal Governo per contrastare le frodi. In tutta Italia i crediti fiscali congelati alle aziende ammontano a 2,6 miliardi di euro, risorse che vengono a mancare per portare avanti i cantieri in una fase già caratterizzata dall'aumento indiscriminato dei prezzi sui materiali e dal loro difficile approvvigionamento. Secondo l'ultima indagine di CNA nazionale, effettuata su 2.000 imprese, la consistenza dei crediti bloccati, circa il 15% del totale, mette in crisi oltre 60.000 imprese italiane che si ritrovano con un cassetto fiscale pieno di crediti da riscuotere ma senza liquidità. Il 48,6% del campione parla di rischio fallimento, il 68,4% di blocco dei cantieri. La metà degli intervistati ammette di pagare in ritardo i fornitori, mentre il 30% è costretto a rinviare tasse e imposte e il 20% non riesce a pagare i collaboratori. CNA torna dunque a chiedere provvedimenti urgenti per sbloccare questa situazione e restituire liquidità alle imprese. Tra le misure richieste c'è anche l'abolizione delle attestazioni SOA, il cui possesso è divenuto di recente obbligatorio per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516.000 euro. Una novità che, secondo CNA, ha provocato ulteriore disorientamento tra imprese e cittadini. Il Consiglio di Stato ha dato parere negativo al ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal Comitato Ambientale di Casale che si opponeva all'insediamento di un impianto di trattamento di rifiuti inerti a Casale. Un parere che quindi chiude definitivamente la questione, permettendo all'amministrazione di poter procedere a destinare definitivamente un'area comunale al trattamento inerti. Finora le aziende che operano nel settore stanno utilizzando un terreno a San Giorgio a Colonica, reso disponibile a suon di deroghe. E già nel 2020 il TAR della Toscana aveva respinto il ricorso promosso dal Comitato Ambientale di Casale a alcuni residenti e consiglieri comunali. Il Vescovo Giovanni Nerbini, ospite ieri sera al terzo appuntamento di Confesercenti, incontra l'etica nel fare impresa. Questo è il tema al centro della serata conviviale che è stata moderata dal direttore di TV Prato Gianni Rossi. Sentiamo. Continuano questi incontri di Confesercenti con le istituzioni cittadine. Questa sera c'è il Vescovo. Ecco perché invitare il Vescovo Giovanni Nerbini a una scena di Confesercenti? Confesercenti vuole che la nostra città sia sempre più rappresentata anche dall'istituzione, quindi di portare a conoscenza di quello che è il cittadino pratese, l'istituzione, i nostri soci, i commercianti, Prato. Quindi questa sera con Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Nerbini parliamo di etica. Etica nel fare impresa. Etica è rispettare le regole della concorrenza, il diritto dei lavoratori o c'è qualcos'altro? Etica sono tante parole, sono tanti significati diversi che si assommano. È intanto la correttezza nello svolgimento del proprio lavoro, sia verso coloro che usufruiscono della nostra attività lavorativa, che di coloro che con noi collaborano a produrre questo, ma c'è anche una responsabilità che investe poi il nostro operare verso tutta la società, cioè non siamo semplicemente persone che si muovono dentro un contenitore ma che contribuiscono a far sì che questo, chiamiamolo in maniera molto esemplificata, contenitore sia in un modo o in un altro e questa è la società in cui viviamo, in cui lavoriamo, in cui ci muoviamo. Etica è rispettare il collega, è rispettare anche i lavoratori perché è giusto retribuire e con la giusta paga il collaboratore, perché io ho sempre sostenuto che l'azienda non è nostra, l'azienda è dei dipendenti, dei collaboratori, perché cercando di far sì che i collaboratori non sono tranquilli, sireni, amano l'azienda, si costruisce l'azienda. La regione sta lavorando per il salario minimo garantito, ad anticipare la notizia alla consigliera regionale del Partito Democratico, Ilaria Bugetti, che presiede la Commissione Sviluppo Economico. Intervenuta stamani a prima di tutto la rassegna stampa ragionata di TV Prato. Ascoltiamo. Oggi sulle cronache c'è il salario minimo, l'Europa che ce lo suggerisce, ci dà i criteri. In Italia c'è un bel dibattito, il Ministro del Lavoro Orlando lo propone, invece il Presidente dei Confindustria, Bonomi, dice che non è il caso. So che lei ha lavorato o comunque sta lavorando a qualcosa che riguarda il salario minimo, ci dice qualcosa di più? Sì, in realtà è curioso perché proprio in questi giorni è uscito questo tema con forza quando in Regione Toscana, nella mia commissione, sono circa due mesi che i tecnici sono al lavoro sul salario minimo garantito e mi fa piacere dirlo questa mattina, ancora siamo allo studio di questa cosa perché la Regione Toscana non ha competenze in merito e quindi il nostro non può essere che un'azione politica di sollecitazione nei confronti del governo. L'Europa discute l'indirizzo del 2020, siamo ancora fermi lì e credo che sappiate che l'Italia è uno dei cinque paesi, anzi 21 su 27, quindi sei paesi in Europa che non ha il salario minimo garantito. E questo insomma essere il fanolino di coda su questo non è bello, quindi dalla Regione Toscana stiamo provando ad elaborare una proposta che in qualche modo dia una spinta e dia una mano. E torniamo a collegarci con Arianna Di Ruba che si trova per noi a Lido di Camaiore per capire che clima si respira tra gli addetti ai lavori in vista dell'imminente stagione estiva. Buonasera Arianna, a te di nuovo la linea. Sì, buonasera, siamo sempre qui in diretta da Lido di Camaiore, ci siamo spostati sulla terrazza del bagno Venezia con alle spalle appunto tutti i bagni, gli stabilimenti e il mare. Siamo ancora in compagnia di Marco D'Addio, il Presidente dell'Associazione Balneari dell'Ido di Camaiore. Diciamo un po' la stagione balneare ripartita, come ripartita e quali sono anche le prospettive? Diciamo che è stata la prima estate, quella che fa ripartire dopo due anni di Covid, dove comunque abbiamo vissuto nelle distrettezze cercando di mantenere la massima attenzione e abbiamo fatto anche tra l'altro un bellissimo lavoro, riconosciuto soprattutto dalle prenotazioni che stanno arrivando, che comunque sono importanti, dai ponti che sono passati, come l'ultimo che comunque è stato un ponte importante e comunque la gente ci ha apprezzato per il lavoro che avevamo svolto e ci ha rilatificato quest'anno con le presenze che onestamente sono importanti e sono previste anche importanti proprio nei prossimi mesi. Ecco, tornano anche i turisti dalle zone vicine, ma non solo dall'Italia ma anche dall'estero? Sì, c'è un ritorno già iniziale di diversi stranieri, turismo che arriva per dire dalla Germania, che arriva dall'Olanda, arriva dalla Francia, quindi diciamo che abbiamo riacquisito quel patrimonio che arrivava dall'estero di turismo anche del fuoristagione, del maggio, del settembre, quindi le prospettive sono anche interessanti. Sono già tanti anche i turisti che sono arrivati qui in questo periodo, si diceva anche prima a Fionda già dal 25 aprile e poi anche in questi giorni di ponte, anche le previsioni quindi per i prossimi mesi comunque si prospettano buone. Diciamo sì che c'è stato un grandissimo afflusso, c'è ora fino all'inizio delle vacanze scolastiche, diciamo un momento di tranquillità che poi dovrebbe riprendersi appunto con la fine delle scuole e l'arrivo delle famiglie, dei famosi nonni con i bambini che poi è il turismo che ci piace perché è quello appunto di prossimità, delle seconde casse, insomma è tutto un insieme e soprattutto anche a livello alberghiero comunque ci sono degli ottimi risultati in questo periodo. L'estate all'insegna della ripartenza, finalmente tante iniziative anche sono in programma appunto anche nella zona. Sì, diciamo che come balneari come sempre tutti gli anni organizziamo eventi, ne abbiamo a calendario anche quest'anno una quarantina, poi ci sono delle attività, delle iniziative che sono partite dal comune come per esempio la prima estate che sarà un concerto organizzato da Alessandro e Galli, una settimana di eventi musicali importanti per esempio come la presenza di Duran Duran, quindi diciamo che sarà già un giugno molto caldo, con molte presenze e soprattutto con grandi iniziative. Benissimo, io ringrazio davvero Marco D'Addio per essere stato con noi per l'ospitalità, grazie mille. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità, per i sentici, a prestissimo. E a voi, tutti voi, grazie per averci seguito e restituisco quindi la linea allo studio. Sì, grazie Arianna, lasciamo la bellissima suggestiva location estiva della Versilia per tornare a Prato, esattamente a Montemurlo dove la Polizia Municipale ha scoperto un commercio clandestino di farmaci provenienti dalla Cina nel corso di un controllo in Borghese nell'area commerciale di via Livorno, gli agenti hanno fermato un autocarro attrezzato per il commercio ambulante itinerante condotto da un cittadino cinese di 36 anni che vendeva cibo non correttamente conservato né tanto meno etichettato, ma non solo. Tra polli, carote e farina la Municipale ha rinvenuto e sequestrato 56 confezioni di farmaci, molte destinate ai bambini, tutte prive di autorizzazione all'immissione in commercio e con indicazioni esclusivamente in lingua orientale. Per il cittadino cinese è scattata la denuncia, per ricettazione di farmaci venduti senza l'autorizzazione alla messa in commercio, elevate multe per oltre 7 mila euro. Referendum abrogativo sulla giustizia. Cittadini chiamati alle urne per dire la loro su un pacchetto di 5 quesiti. Ecco che cosa prevedono il quarto ed il quinto. Ascoltiamo. Il 12 giugno gli elettori saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito all'abrogazione o meno del decreto legislativo 27 gennaio 2006 numero 25 che riguarda la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. Si tratta del quarto quesito referendario, in cui si chiederà di abrogare le norme in materia di composizione dello stesso Consiglio Direttivo e dei Consigli Giudiziari, nonché, come detto, in materia di competenze dei membri laici, ovvero avvocati e professori universitari di discipline giuridiche che ne fanno parte. Con l'eventuale abrogazione, i membri laici prenderebbero parte alle votazioni che riguardano l'operato dei magistrati, mentre tale potere ad oggi prevede il coinvolgimento della sola componente dei magistrati. I magistrati sono l'unica categoria in Italia che non ha alcuna responsabilità civile e non sono di fatto soggetti ad alcun tipo di giudizio. Se invece, come propone questo quesito referendario, sarà possibile anche per gli avvocati, quindi poter giudicare l'operato dei magistrati, renderemo un servizio a tutti i cittadini perché i magistrati si sentiranno di dover rendere conto anche a terze parti, in questo caso agli avvocati. Permettere che liberi professionisti, avvocati, professori, possano dare dei giudizi in merito a quello che è l'operato della magistratura, porrebbe la magistratura in una situazione di dipendenza. Faccio un esempio pratico. Ovviamente si potrebbe avere un avvocato che per motivo per un altro ha avuto contatti con un magistrato e poi si potrebbe trovare a dare dei giudizi sullo stesso. Quindi ovviamente noi riteniamo che si debbano lasciare scindere le due cose e votare quindi no al quesito referendario. Nel quinto quesito si chiede di abrogare la norma che richiede ad un magistrato di procurarsi da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura. Con l'eventuale abrogazione un magistrato potrebbe candidarsi senza alcun vincolo di numero di firme. Primo battesimo degli adulti dopo la pandemia. Si tratta di una donna nigeriana che ha compiuto un cammino di fede durato più di due anni. A conferire il sacramento nella notte di Pentecoste in cattedrale il vescovo Giovanni Nerbini ha ricevuto il battesimo per immersione anche una bambina di otto mesi. Il momento atteso da oltre due anni da quando ha iniziato il cammino per il catecumenato per Beauty è arrivato. Proprio in occasione della solennità di Pentecoste quando in Nigeria in una chiesa cattolica si è consumata una strage in cattedrale Beauty, giovane donna nigeriana arrivata a Prato nel 2018 ha ricevuto i sacramenti del battesimo della comunione della Cresima per mano del vescovo Giovanni Nerbini andando così a completare la sua iniziazione cristiana. Insieme a Beauty ha ricevuto il battesimo per immersione anche la piccola Anna di otto mesi i cui genitori appartengono al cammino neocatecumenale della comunità di Sant'Agostino. Il signor vescovo battezzerà una bambina di otto mesi la battezzerà con il rito di immersione e poi soprattutto stasera abbiamo la gioia di celebrare il battesimo di una donna una mamma che ha tre figlioli nigeriana che non ha avuto il battesimo da piccola e venendo qui a Prato ha avuto la fortuna, la grazia di incontrare dei cristiani che le hanno dato un esempio di vita cristiana e ha sentito il desiderio di seguire il Signore di conoscere Gesù e di farsi battezzare. Per più di due anni ha fatto il cammino catecumenale e finalmente è arrivato il momento in cui il suo sogno si realizza. Quello di Beauty che è stata battezzata col nome di Cristiana è stato il primo battesimo degli adulti dopo i due anni di pandemia. Attualmente sono tre le persone che stanno seguendo il cammino e che si apprestano a ricevere il sacramento una donna ungherese, una donna nigeriana e un giovane uomo pratese. È scomparso improvvisamente prematuramente all'età di 69 anni a causa di un malore il dottor Mauro Ruggeri presidente della sezione toscana dello SIMG, Società Italiana Medici di Medicina Generale e decano della medicina generale. È stato storico componente dell'Ordine dei Medici di Prato. Esprimono il proprio cordoglio l'Ordine dei Medici di Firenze, l'ASL e la Società della Salute. E adesso vediamo insieme il consueto bollettino sul coronavirus. Sono 1.628 nuovi casi di covid in Toscana di cui 86 in provincia di Prato. Lo riporta il bollettino. L'età media dei nuovi contagi è di 41 anni ed il tasso di positività in aumento rispetto a ieri del 13,3%. Oggi si registra anche un decesso a livello regionale. In lieve diminuzione i ricoveri nelle aree covid degli ospedali toscani. I pazienti sono 239, 3 in meno rispetto a ieri. E adesso è il momento di scoprire insieme argomento ed ospite di questa sera d'intorno alle 9 in onda dopo il nostro Tg. La linea a Dario Zona. Buonasera. Sì, buonasera. Questa sera d'intorno alle 9 parliamo di salute e di salute mentale in particolare per illustrare i contenuti di un report effettuato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana per capire l'effetto della pandemia sulla psiche dei cittadini pratesi e toscani. Lo faremo con la Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana Maria Antonietta Gulino. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera. E quindi rimanete con noi perché i temi sono davvero tanti. La salute mentale dei nostri ragazzi ma non soltanto perché è incrementata la domanda di assistenza agli psicologi anche da parte degli adulti e della popolazione più anziana. Sì, grazie per queste anticipazioni. Adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato ed intorni con la nostra agenda. domani mercoledì 8 giugno alle ore 18 al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci la storia e i suoni della cupola del Brunelleschi. Il compositore Salvatore Sciardino e il filosofo Sergio Givone dialogano con il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol e con Gabriele Giacomelli. Sempre alle ore 18 nella corte della ciminiera della biblioteca Lazzerini letture al tramonto yoga tra terra e cielo pratica gratuita di yoga al tramonto in compagnia di Francesca Dionisi con letture ingresso solo su prenotazione posti limitati. A partire dalle ore 19 allo stadio Cersoni di Yolo birra festival street food mercatini e musica dal vivo. Alle 20 e 45 con partenza dalla parrocchia di San Paolo San Paolo e Borgo Nuovo insieme in cammino per la pace camminata per la pace e per le vie dei due quartieri promossa da parrocchie circoli e associazioni. Alle ore 21 alla biblioteca Lazzerini è tardi dialogo tra l'autore Edoardo Savarese e la soprintendente della camerata strumentale Città di Prato Barbara Boganini. Infine alle 21 e 15 centro Pecci Cinema proiezione del film Malignant. E per questa sera termina qui il nostro telegiornale vi lasciamo al meteo a cura del consorzio Lamma a seguire intorno alle 9 vi ricordiamo domattina alle ore 7 e 30 l'appuntamento con prima di tutto la rassegna stampa ragionata di TV Prato a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar Era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi Compratopol non è un caso che siano professionisti della sicurezza per comprare vendere affittare casa rivolgiti a Tecnocasa la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa ci trovi vicino a te nelle nostre nove agenzie affiliate a Prato e provincia e sul nostro sito tecnocasa.it uno dei più cliccati da chi cerca casa esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te vuoi lavorare con noi? inviaci il tuo curriculum scrivi a toscana chiocciolatecnocasa.com Tecnocasa la più grande rete fisica e virtuale in Europa Buonasera a tutti ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del consorzio LAMMA l'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani mercoledì 8 giugno alta pressione in fase di attenuazione e infiltrazione di aria fresca tendano a interessare anche parte della nostra penisola andiamo quindi a vedere il tempo previsto per domani mercoledì mattinata con cielo per lo più sereno poco nuvoloso salvo nubi basse presenti sul valdarno medio ed inferiore in fase di dissoluzione i venti sono occidentali i mari per lo più mossi le temperature minime pressoché stazionarie lo sguardo anche al pomeriggio non cambia molto salvo lo sviluppo di nubi cumuliformi su appennino e zone interne che però non dovrebbero portare a fenomeni di rovescio temporale i venti sono sempre occidentali i mari mossi temperature massime fino a circa 30 gradi uno sguardo alla successiva giornata di giovedì maggior variabilità già dal mattino quando non si escude anche la possibilità di qualche precipitazione nelle zone interne nel pomeriggio l'instabilità tenderà a crescere sono attesi rovesci e anche locali temporali in particolare sulle zone montuose e sulle zone interne i venti sono da nord ovest sulla costa da nord est nell'interno con mari per lo più mossi o localmente anche molto mossi le temperature sono attese in calo anche sensibile massime tra 25 e 27 28 gradi è tutto grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione